Buongiorno, sono Anna Test, professionista nel campo del digital marketing e seguirò per voi il corso la digitalizzazione della farmacia. Cosa serve per avere risultati concreti e misurabili in un'ottica di digitalizzazione della farmacia? Un piano ben preciso e la conoscenza di strumenti digitali. In questo corso affronteremo entrambi, andremo a trattare sia l'importanza del piano di marketing strategico che la conoscenza degli strumenti che servono poi per renderlo concreto. Ovviamente affrontando dei case history molto pratici e fornendovi una visione ed una realizzazione del piano stesso in maniera assolutamente pragmatica. Gli argomenti trattati saranno tre. Facebook diviso in due appuntamenti, visto proprio nella sua importanza strategica di comunicazione e promozione della farmacia stessa, andando ad analizzare sia gli aspetti di contenuto ma soprattutto gli aspetti di pianificazione della pubblicità, misurazione dei risultati e monetizzazione della promozione stessa in termini di ritorno dell'investimento. Un appuntamento sarà dedicato all'email marketing, cioè invio di email promozionali attraverso degli strumenti che consentano il monitoraggio dell'invio e del risultato della campagna stessa, con un accenno anche all'SMS marketing, quindi la possibilità di utilizzare l'SMS come strumento di comunicazione per utenti meno avvezzi allo smartphone. E ultimo ma non meno importante, il sito web, che in un'ottica appunto strategica è il recipiente, il raccoglitore di queste informazioni. Anche questo in un'ottica assolutamente pragmatica. Le nuove piattaforme che consentono un utilizzo del sito stesso, un aggiornamento del sito stesso senza alcuna conoscenza informatica, come strutturarlo in maniera incisiva e veloce, perché tenerlo aggiornato, come tenerlo aggiornato sfruttando e ottimizzando i canali social in modo da ottenere più risultati con lo stesso medesimo sforzo. A termine di questo corso intendiamo offrirvi e fornirvi tutti gli strumenti necessari per avere una pianificazione e una realizzazione di un piano di marketing digitale e di promozione digitale della vostra farmacia in totale autonomia. Vi ringrazio e vi aspetto in aula. Grazie a tutti.